Conto alla rovescia a Clusone per l'edizione 2014 del Motor Party da venerdì 11 a domenica 13 luglio. Cosa dobbiamo aspettarci quest'anno? Sì, allora, Motor Party sarà ancora come di consueto una tre giorni all'insegna dei motori. Innanzitutto, per chi non fosse mai venuto a vedere questa manifestazione, voglio anticipare che si svolge a Clusone, in località La Spessa. L'ingresso è gratuito e permette anche la possibilità di ristoro sia in serata che in pausa pranzo, che nel pomeriggio pure. Innanzitutto, quello che sarà il fiore all'occhiello di quest'anno saranno due nuove anteprime per quello che riguarda lo spettacolo di freestyle motocross, ovvero la presenza di tre spagnoli che, possiamo dire, sono gli unici al mondo ad esibirsi in due su di una moto, e quindi il cosiddetto tandem freestyle. E arriveranno addirittura ad eseguire il tandem backflip, ovvero il giro della morte in due su di una moto. Altra anteprima, addirittura a livello mondiale, sarà quella di Simone Cesare, un ragazzo che già ci ha accompagnato negli spettacoli delle edizioni precedenti, che con il suo piaggio sì, proprio in esclusiva, andrà provando, e dico provando perché in effetti l'ha solo compiuto nelle vasche di gomma a piuma che utilizzano abitualmente per allenarsi, andrà compiendo il giro della morte, proprio addirittura con il suo ciclomotore, sul nostro atterraggio predisposto proprio a dovere, insomma, nella giornata di sabato, e quindi vi aspettiamo numerosi. Come ogni anno, poi naturalmente ci sono anche appuntamenti per gli appassionati. Esattamente, abbiamo confermato una possibilità che l'anno scorso ha riscosso parecchio successo, ovvero la pista libera, dove previo pagamento di una quota usuale, come si fa solitamente nelle varie piste di moto, gli appassionati sabato, in tarda mattinata e primo pomeriggio potranno iscriversi sul posto e partecipare, ovvero calcare proprio la pista vera e propria dove in serata andranno esibendosi i piloti professionisti. Quindi, vivere motor party da dentro, divertirsi con la propria moto e provare, diciamo, le stesse sensazioni che andranno poi provando i piloti professionisti da lì in avanti. La sera avremo quindi dunque la presenza sempre di piloti di caratura mondiale, tra cui voglio citare Matthew Phillips, un australiano che è in Lizza per vincere il titolo mondiale, dato che è in testa con due gare mancanti, oltre a una folta schiera di altri piloti professionisti, ricordo Oldratti, Redondi, Manzi, nostro concittadino che andremo tifando, più tanti altri. E addirittura, invece, per la domenica andremo ospitando il trofeo KTM, ovvero un campionato a livello italiano che, diciamo, andrà accogliendo fino a 200 piloti provenienti da tutta Italia che andranno sfidandosi sempre sulle piste, sulle, diciamo, stessi terreni della gara del giorno precedente. Ricordo pure che la manifestazione andrà svolgendosi anche in caso di pioggia, c'è una vasta area coperta dove appunto si può consumare il ristoro e comunque posizionarsi per vedere l'intera manifestazione. Le previsioni sembrano, sembra vadano migliorando, perciò siamo più che ottimisti e comunque vada i piloti, anzi, quello che è lo spettacolo verrà fatto comunque e i piloti stessi saranno solo che messi maggiormente alla prova e quindi doppio spettacolo per chi andrà seguendoli.